Ci sono forse due partite da commentare, quella che è durata 70-75 minuti, bella, vinta con merito, poi il risultato vi ha premiato, però quel quarto d'ora finale immagino l'abbia fatta arrabbiare. Credo che noi siamo tutti felici del risultato che siamo riusciti ad ottenere contro una squadra difficile come Latina e non credo che sia un campo dove tutti possano arrivare e andare in vantaggio 2-0. Quindi c'è sempre da soffrire ovunque contro chiunque. È chiaro che forse abbiamo avuto anche un calo fisico nel secondo tempo, spero non mentale, perché abbiamo iniziato a non essere più aggressivi, soprattutto in mezzo al campo, abbiamo fatto un po' più fatica con gli attaccanti e soprattutto la pecca vera è stata quella di non chiudere la partita quando ne avevamo l'opportunità. Però io credo che al di là di tutto questo sia importante per il gruppo portare a casa i risultati anche in questa maniera perché fortifica al di là dell'autostima e la fiducia anche la capacità di soffrire. Perché poi abbiamo dovuto soffrire, c'è chi ce l'ha di più, chi ce l'ha di meno. Quindi anche chi magari ha nelle proprie qualità, nelle proprie caratteristiche, più tecnica che quantità, ha cercato di dare il proprio supporto. Ripeto, il rammarico è quello di essere arrivati a fine partita rischiando quando abbiamo avuto un numero impressionante di palle e gol da poter comunque chiudere in anticipo la contesa. Diciamo che Cuppone è stato un po' gioie e dolori della serata, però alla fine non si parla dei singoli, quindi non le chiedo nulla su Cuppone, però le dico, in un primo tempo ai limiti della perfezione, giocato bene con tante palle e gol costruite, due finalizzate, l'unica cosa che ho visto dalla panchina l'ha fatta un po' arrabbiare quando in Latina, soprattutto a sinistra con i quinti, creava un po' di problemi. Sì, avevamo più necessità, cambiando un contesto tattico rispetto a quello dell'Avellino, che anche gli esterni offensivi dessero una mano maggiore in certi frangenti. Però è anche vero che tenendoli alti sulle ripartenze, soprattutto Cuppone, ha inciso notevolmente nel primo tempo. Dove possiamo migliorare? Anche negli egoismi, che questi sono peccati gravi, soprattutto se il risultato non fosse quello che abbiamo maturato. Per cui su questo voglio ben sottolineare questo aspetto, perché è importante che è la squadra e non sicuramente il singolo. Poi io credo che il singolo faccia un gran lavoro e venga ripagato del sacrificio che fa dalla squadra. Ma prima di tutto c'è la squadra, quindi dobbiamo eliminare il più possibile gli egoismi, perché se abbiamo l'opportunità di far fare gol in modo semplice a un compagno, bisogna farlo. Sto andando in studio per le domande, ma mi dica Colombo, è contento sì o no? Sono stremato, perché a un certo punto avevo solo voce per richiamare i giocatori, che tra l'altro magari potevano essere anche in difficoltà fisica. Quindi sono contento dentro, sicuramente potevamo fare meglio. Però, ripeto, un passo così importante in un momento del genere, ad inizio campionato, serve tantissimo alla squadra e allo staff per poter lavorare in un certo modo. La domanda da studio di Fabio Ferraresi per Colombo. No, io al mister faccio in prima battuta una considerazione e poi voglio fare una domanda. La considerazione è che rispetto a qualche giorno fa, dopo la prima partita, ho notato sicuramente dei progressi dal punto di vista della personalità e del voler fare la partita. Quindi vi voglio fare i miei complimenti. La domanda è, quello che è successo nell'ultimo quarto d'ora, io prima con Massimo pensavo fosse dettato anche dal fatto che Latina stesse premendo e volesse cercare di fare qualcosa in più. Lei invece ha sottolineato poco fa un calo dal punto di vista fisico. Io pensavo che fosse soltanto una cosa mentale e psicologica, quindi lei ha visto una squadra che comunque è calata dal punto di vista della tenuta atletica. Sì, io ho notato soprattutto nel reparto di centrocampo che non avevamo più la stessa abilità nel recupero delle seconde palle perché nel primo tempo siamo stati molto bravi in questi aspetti e quindi la riconquista alta favoriva poi l'innesco di Cuppone e degli attaccanti. Nel secondo tempo abbiamo subito faticato un pochettino, però devo dire che anche da sottolineare una questione. Noi bene o male abbiamo sempre in campo 5 under e questo magari in alcuni frangenti puoi pagare dal punto di vista della personalità e del coraggio. Però sono tutte situazioni che ti formano, ti fanno crescere e quindi va bene così. Ripeto, è la seconda partita dove noi abbiamo almeno 5 under in partenza e bene o male finiamo con 4-5, adesso avevo perso il conto. Però siamo una squadra molto giovane, qualitativa, quindi questi giovani hanno delle potenzialità e magari a volte devono commettere degli errori, come si diceva, per poter crescere. Veloce Massimo che dobbiamo salutare il mister. Sì, una domanda flash perché io volevo confermare quello che diceva Fabio, però la mia domanda era questa, quindi non era strategia quella adottata nel secondo tempo, cioè ripartire negli spazi visto che Latina si era comunque alzato come baricentro. Non era una strategia ma era solo legata alla condizione. Assolutamente, era un fattore che la partita ci ha portato a dover accettare e lì potevamo essere indubbiamente più incisivi, più qualitativi là davanti perché con i giocatori che abbiamo, io credo che quando una partita si mette sotto questo aspetto tattico dobbiamo essere in grado di chiuderla con ampio margine, quindi questa è stata veramente una pecca, potevamo sicuramente fare meglio in questa situazione tattica. L'ultima, mercoledì c'è il Crotone, la classifica dice che è già un big match, flash, come stanno i ragazzi dal punto di vista fisico? Nessun problema, solo stanchezza, come sta in grosso? Due parole sul Crotone. Non credo che ci siano bisogno di sprecare parole in riferimento al Crotone per la qualità, per la rosa che ha a disposizione, per gli obiettivi che si è posto, squadra che retrocessa e ha voglia di ritornare subito in Serie B. Noi abbiamo la necessità di recuperare, quindi saranno due giorni e mezzo dedicati a un completo recupero che deve essere prevalentemente fisico e anche dal punto di vista psicologico non mi spaventa perché la partita richiama già di per sé le emozioni e gli stimoli, però abbiamo anche in grosso, speriamo di recuperarlo perché in un momento del genere dove la condizione non è perfetta, avere subito delle partite una dietro l'altra ha bisogno che tutta la rosa sia a disposizione per poter attingere.